Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Questo è il motto della GMG 2019 che si terrà tra meno di un mese a Panama. E dopo un viaggio di 12.000 km sono giunti nello stato sudamericano i rosari, un milione, prodotti in terra santa che il Santo Padre donerà ai giovani di tutto il mondo. Il Rosario di Bethlehem, come si legge da un lato per ricordare la provenienza, e JMJ 2019 dall'altro. AVEJMG è un progetto nato tra l'Associazione Svizzera Saint-Jean-Marie-Vienne et Lausanne e la Caritas Jerusalem, di cui si è fatto promotore il Vescovo Emerito di Reykjavik Islanda, che ha portato molti benefici. 800 persone coinvolte, 300 famiglie tra le più bisognose e poveri di Bethlehem hanno prodotto questi speciali rosari. Siamo molto contenti di essere riusciti a realizzare un milione di rosari che sono giunti a Panama e continueremo a fare gli altri 500.000 secondo gli accordi tra l'Associazione Saint-Jean-Marie-Vienne et Lausanne e la Caritas Jerusalem, che si occupa di tutto il lavoro. Saranno sufficienti al Santo Padre per offrirli ai giovani, che a loro volta potranno offrirli ad altri, ed invitare a pregare per la pace nel mondo, a cominciare da Gerusalemme. Questo progetto ha cambiato la vita delle persone. Durante le vacanze i nostri studenti universitari hanno lavorato a questo progetto per pagare le tasse di studio. Questo progetto ha anche creato opportunità di lavoro per persone con disabilità o bisogni speciali. Questo messaggio lo trasmetteremo a Panama, specialmente perché i rosari che abbiamo prodotto sono stati inviati lì e verranno distribuiti a tutti. 500.000 sono ancora i rosari che devono essere prodotti e che non verranno destinati alla GMG, ma Monsignor Burkera ha già trovato la soluzione. Ho proposto al Santo Padre di prenderne 100.000 per la prossima GMG che si svolge in tutte le diocesi del mondo, la Domenica delle Palme. I 400.000 restanti? Ci sono molti vescovi che vorrebbero averli. Un modo affinché i giovani possano ricevere la grazia della pace nel loro cuore e la possano trasmettere ad altri ed anche al mondo intero. La Vergine Maria è la madre di tutti. Per questo i giovani sono chiamati a confidare in lei, perché lei è la regina della pace e se facciamo la volontà del Signore, tutti, uomini, donne e giovani di buona volontà, possiamo a poco a poco creare la pace, a cominciare dal nostro cuore, a cominciare da Gerusalemme. La paix dans le monde, en commençant dans nos cœurs et en commençant par Gerusalemme. Grazie a tutti.